Circa un chilometro di percorso ciclopedonale che collega la zona di Folonica-Ronchi al centro cittadino. Per l'esattezza, il nuovo tratto della cosiddetta pista ciclabile di Quarrata si snoda lungo l'argine del torrente Fermulla da via Pretelli a via San Lorenzo. Si tratta del primo lotto ad essere completato nell'ambito di un progetto più ampio di mobilità ciclabile finanziato dalla regione toscana, che comprende in tutto quattro lotti. I lavori per la realizzazione degli altri tre lotti sono in fase di esecuzione, ma intanto si può fruire di questo primo tratto. L'opera è stata intitolata da Alfredo Martini, una figura di spicco nel panorama del ciclismo nazionale ed internazionale, un toscano che si è contraddistinto nel mondo dello sport e non solo, per le sue qualità umane, prima ancora che professionali. Andiamo a inaugurare questo primo lotto che collega la parte sud di Quarrata, la zona di Folonica, con il centro della città. È un percorso nuovo, un percorso importante, perché credo che sia fondamentale dare dei segnali di una mobilità diversa rispetto a quella tradizionale. Quindi con questo tratto di pista noi andiamo a collegare la zona sud della città con il centro, dando anche una possibilità di ulteriore sicurezza per i pedoni che percorrono le nostre strade. È un progetto importante per la città di Quarrata che prevede circa 17 chilometri di viabilità ciclopedonale. Gli altri tre lotti stanno andando avanti, dovremo terminarli entro il prossimo anno.